Parlo tra istituzioni e comunità e qui voi avete dimostrato sempre, grazie alle attività di questi anni a cui abbiamo partecipato, un amore straordinario per questo spazio, non solo per questo spazio, che ha reso merito della vostra attività e ha portato l'amministrazione con l'assessorato che era guidato dal Consigliere regionale Giovanni Cavallari, assessore ai lavori pubblici, ma con tutta l'amministrazione che ha voluto fortemente questo intervento di arrivare ad una riqualificazione che consentisse a questo spazio di essere ancora più bello, ancora più funzionale e poi c'è anche un interesse nostro perché noi giocavamo male qui perché il campo non andava bene, adesso il campo è stato riqualificato, tutti noi, anche il sindaco potrà giocare e vincere, quindi ci troveremo qui con Marco, con Giovanni al torneo di Piano d'Arce e col campo ovviamente riqualificato potremo sicuramente vincere anche noi. Grazie con tutto il cuore, grazie Presidente. Grazie a voi che avete mantenuto la parola e fatto veramente qualche cosa di eccezionale. Grazie. Sappate questa perché... Prendiamo Paolo. Sì, per sì. Sì, per sì. Abbassate questa perché... No, piccolo... Ehi! Ehi! Grazie. 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 Grazie a tutti.